Siamo qua con Fabrizio Volente, allenatore dello Sporting Roma, partita vinta 4 a 0. Quali sono le sue sensazioni a caldo? Partita difficile, soprattutto nel primo tempo. Quegli avversari hanno tenuto abbastanza bene il campo. Poi, sinceramente, alla lunga siamo usciti fuori e abbiamo meritato una vittoria che secondo me è giusta per quanto abbiamo provato. Questa, la prossima partita, come la preparerete? Come sempre, noi scendiamo in campo per vincere contro chiunque. Sappiamo che siamo una buona squadra, se ci mettiamo a giocare a calcio ce la possiamo fare. Avete tutti i mezzi per vincere contro chiunque, come dice lei, oppure vi manca ancora qualcosa? Diciamo che stasera avevamo due giocatori fuori per squalifica, quindi anche il loro rientro sicuramente arricchisce la nostra rosa e il nostro potenziale. Quindi, papà, ce la giochiamo con tutti, sono sincero, ce la giochiamo con tutti e puntiamo comunque a vincere il torneo. Io ragazzi vi auguro di cuore, vi auguro anche un grande in bocca al lupo. Buona serata, grazie. Buona serata.